Fino a 15 ottobre nella sede della Biblioteca della Regione è visibile la mostra Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carta e latta 1900-1960, che espone scatole di latta, disegni, colori, etichette, targhe pubblicitarie. Mutuo soccorso e solidarietà, immagini grafiche, opere, installazioni e una fontana e la mostra dell'artista turinese Claudio Rottaloria, ospitata fino al 20 settembre nella sede storica della Società degli Operai di Borgomanero. Prosegue l'esposizione di mostre fotografiche del Consiglio regionale all'Otto Galleri di Torino. In calendario, dal 15 al 21 settembre, l'appuntamento è con Da moneta unica a unica moneta, 10 anni di euro.